Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateinCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene vecchi trapani! Bentornati qui nel canale GRAN Siamo con l'ultima partita di questa divisione Speriamo di non retrocedere, siamo a bel class e quindi ovviamente perderemo Oggi siamo obbligati a vincere Perché se no vinciamo retrocediamo in quinta Non ci va a retrocedere in quinta Ho detto un pochettino più veloce di te io Però ho detto la stessa identica cosa Ma lo faccio per quelli che magari non hanno sentito Perché sta com'è? Ascoltano Jimmy Hines Chi non ha eserlo, te lo cari Delvego come troppo Da questo? Questo? C'è un modulo che c'è un piso Per tutti A che per il campo bello che non ho punto l'abbiato Ma affancuno C'è un piso La guerra Siamo fatta che ho fatto una schede Il peffodivo Ciro Ciro Ci attivano fuori E' la fama La fama E' 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 netto il tuo cuore boh faccia guarda guarda come è cascato per l'azio guarda lo tutto l'occhio del cameraman c'è non ci voglio crede vaffanculo guardate quando ti serve quando ti serve quando ti serve porca puttana o che era? ma che cosa ha fatto Giro? mamma mia ma che cosa ha fatto? mamma mia ma dai che un po' è ma te ragazzo c'è guarda che roba il giro magnifico il B-Shake il diagonale andami bella perfetto immobili 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 no 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 mi fai un gol e porto due da bomber ah ok ti rastignazio si arriva pure al sale era bello una bomba bene vecchi drappani va bene vecchi drappani ecco preva nonoschi 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 ancora Lewandoschi in mezzo rigori olè ahahahah è un piaccia per noi e indovinate chi lo direrà? io ahahahah c'è si mammozzo lo dirò è quello che è vero ma mamma mia mangia non è abbi in un vero shrimp è quello che è a valutare attraverso il club in un giro le e di r mamma mia non ci credo, il tuo cazzo è passato quel pallone cazzo è facciachissimo palo 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 c'è non ti guarda sotto, guarda sotto no 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 oddio che no orco ma buono qua che c'è il mio antano dei riflessi mamma mia dai dai buona vabbè porca puttana chiudevamo se stava giocare la serie B facciamo ancora la serie B no vabbè ma vaffanculo ma che non ha preso il pallone io lo dico se perdiamo è qua cazzata ma cazzo ma sotto 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 ooo ma rischia troppo vabbè si attacca pure che cazzo sapevo che torna mandiato il vaffanculo non l'ha presa ma toscamo ma porca roia poi devo stringere il culo fino a aprile devo stringere il culo porca puttana cosa io ti dico io vado a finir male eh io a finir va fino all'ospedale questa cosa eh c'è finisci a gemelli lo dico è tua è tua guarda che sto in mezzo con Ciro eh Ciro vabbè vedi Ciro no metti in mezzo ma faiiii siiii ooo che staccio mamma mia ah che bella liberazione questa ole 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 un po' più potenza però è lunga 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 la 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 su di pazza olè finisce qui finisce qui non finisce 5 altri ragazzi è finita è finita ma va bene siamo arrivati qui in quarta va bene così ci rimane in quarta e da domani si ricomincia e si ritrova la data in terza ce la facciamo ce la faremo siamo tecnici speriamo di sì dai vai bella ciao